Buongiorno, se pensiamo di dare tutta la colpa all'arbitro non si va avanti ragazzi, no, non ci siamo proprio, assolutamente, non siamo nella direzione giusta, questo è un messaggio per tutti i tifosi che sento troppo dare solo colpa all'arbitro. L'arbitro è una componente importante della partita ma oggi direi non è stato decisivo, forse ha avuto un atteggiamento mediocre nei nostri confronti, questo lo so, lo posso capire, magari non è un grande arbitro ma non è assolutamente oggi come scusante, non possiamo prendere l'arbitro, dargli nessuna colpa per il risultato, anzi va preso Martinez e va fatto ragionare un po' di più, ci sono partite che bisogna avere pazienza, ci sono partite che tu puoi avere qualche occasione a butti dentro, delle partite che non la butti dentro. Prendi nervi, diventi nervoso ma non puoi al 92esimo farti buttare fuori per una cosa così, ragazzi, è allucinante, è stupido, è stupido, lui adesso rischia due o tre giornate, Bentacurda, la Juve mi sembra che ha preso tre giornate per qualcosa di simile. Quindi direi assolutamente, ragazzi, non va bene, non va bene, diamoci una regolata a tutti quanti, sono il primo io a valutare le prestazioni dell'arbitro e oggi sono il primo a dire che l'arbitro non è stato decisivo per il pareggio. Quindi, ripeto, non aveva l'atteggiamento giusto per la partita, questo senza ombra di dubbio, ma da qua a dire che è stato decisivo ce ne passa tantissimo. Un'altra cosa, non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Antonio Conte, Antonio Conte, te l'ho già detto un'altra volta, te lo ripeto, sei arrivato a Milano, non sei più né a Lecce, né a Bari, né a Torino, ok? A Torino potevi fare il cazzo che volevi in campo e sul terreno di gioco, sia da giocatore, sia come allenatore, qua no, qua non è la stessa cosa Antonio, Antonio mio, io ti voglio tanto bene, ma devi anche capire certe cose. Lo so anch'io, tu hai mille ragioni, lo so anch'io che tu hai giocato con dei grandissimi centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio e adesso ti ritrovi Biraghi, ti ritrovi Di Marco, Di Marco, ti ritrovi D'Ambrosio, ti ritrovi Barella, Sensi, ti ritrovi, non so cosa, l'altro com'è che si chiama, Candreva, ti ritrovi Asamoah. Ma questo non mette in discussione che tu ti debba comportare così, tu hai degli obblighi, sei un professionista e devi accettare anche quello che fa la società, perché se no potevi stare da un'altra parte, se non accetti la società, lo so anch'io che sono lenti, i cinesi sono lenti perché l'ho capito, li ho criticati, ma adesso non è il momento assolutamente di far polemica, anzi tu sei il primo perché dovresti essere il condottiero, sei il condottiero di questa nave, perché tu sei il capitano, perché tutte le persone, anche i ragazzi, ti hanno dato tanta fiducia per il tuo atteggiamento su questo chapeau, però adesso nei momenti di crisi le vengi fuori davvero quello che sei. E' troppo facile solo quando vinci fare il figo e quando perdi che devi venire fuori, ma nonna, ieri hai fatto una conferenza stampa per me ridicola, oggi hai fatto, te ne sei scappato e quindi, e tutte le scuse che dopo ci sono ormai le scuse, ma ti ripeto, io ti posso capire che tu eri abituato a giocare con dei citrocampisti, che io sono il primo a dirlo, che hanno scritto la storia del calcio, Deschamps, Paolo Sosa, Zidane, Del Piero, quando giocavi, Davids, e adesso ti ritrovi ad allenare della gente che di questi qua, perché bisogna dire quello che è vero, non ha niente neanche l'unghia incarnita del pollice, ok? Quindi, su questo io ti do ragione, però devi avere pazienza, perché prima di te l'hanno avuta pazienza anche gli altri, anche Spalletti ha avuto pazienza, ha dovuto mangiare tante di quella merda, Spalletti, che tu all'inizio dell'anno, mandando via le tre puttanelle là, te le sei tolto dai coglioni, ti sei tolto già un bel 25-30% del problema che aveva la squadra, ok? Ricordati questo, la società ti ha fatto già un grosso favore, perché la società non ha potuto prendere soldi per quella gente lì, perché quelli lì, un altro discorso, nessuno li vuole comprare, è difficile che li comprano, ma si andrà avanti a prestiti, 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 con riscatto, con tutte quelle sciocchezze che io non conosco e non mi interessa saperle. Comunque, ti ripeto Antonio, la prima cosa da domani deve iniziare una nuova stagione, una nuova stagione fatta con quello nuovo che arriva dalla Danimarca, che è un top player del centrocampo, ok? Quello davvero è un bravo giocatore, sono d'accordo con te, anzi stavolta non sono d'accordo con te, perché secondo me l'Inter ha fatto un grande acquisto, se tu sei incazzato per Vidali non ci posso fare niente, Vidali è il giocatore di una delle grandi squadre del mondo e quindi non ha nessuna voglia di far casino, di abbassarsi i soldi, tutte quelle cose lì, perché ci sono dei momenti per fare delle cose, in questo momento Vidali sta bene a Barcellona, ok? Quindi tu è inutile che fai l'offeso adesso perché non te l'hanno preso, perché ti hanno preso qualcos'altro di differente, sono d'accordo, ma è lo stesso molto buono, quindi tu, se sei davvero bravo, devi lavorare col materiale che ti dà questa società, questa società che sta facendo dei piccoli grandi sacrifici. A me non mi interessa come arrivano, come prestiti, diritti, quindi lascia riparlare in società o gli esperti di finanza, noi ci dobbiamo basare sul campo e se tu tutte le domeniche mi dici che hai la rosa scarsa, però se tutte le domeniche mi fai giocare Biraghi, Candreva, D'Ambrosio, Di Marco, capito? Non si può migliorare perché sei il primo che dici che non sono buoni e poi tutte le domeniche me lo fai giocare. No, devi cercare con la tua capacità che hai avuto anche da centrocampista, ok? Perché se no, se parliamo seriamente, io ti vado a prendere che c'è stata una Juventus, una delle Juventus più forti di sempre, che giocava senza uomini sulle fasce, a parte Franco Causio che faceva tutto, però faceva tutto così in verticale e orizzontale e giocava, perché Furino, Benetti e Tardelli non giocavano sulle fasce. Quindi se tu hai voglia, davvero voglia, di metterti in gioco, devi abbassare il tuo modo di pensare calcio e adattarlo a cercare di migliorare questi giocatori che hai, ok? Allora, non mi interessa un cazzo, ma fra Borca Valero, Barella e quell'altro che hai giocato oggi, ne puoi giocare uno solo in un centrocampo a tre. Allora fai giocare quattro adesso, adesso prova a far giocare quattro. Ne metti uno in vertice basso, Brozovic, Eriksen, lo fai giocare più avanti, vertici avanti e laterali, laterali, eh? Ascoltami! Possono giocare una domenica a Senzia Barella, una domenica a Gagliardini, una domenica può giocare anche i ragazzi che sono arrivati da Manchester, perché sono dei grandi polmoni tutti e due, ok? Quindi le alternative ci possono anche essere. Non è che bisogna giocare tutto l'anno con questo benedetto 3-5-2 che è Tiro di Ostini, perché, ripeto, tu devi anche, tante volte, un bravo allenatore si adatta anche alle qualità dei giocatori che ha. Se però ti sento ogni volta che c'hai un pareggio, una sconfitta, dire che hai la rosa scarsa e la domenica dopo me li ripresenti sempre gli stessi, sempre nello stesso ruolo, allora comincio a pensare che cazzo fai, ci sei o ci fai? Ti ripeto, tu hai giocato con dei grandi centrocampisti, hai giocato, io sono d'accordo, hai avuto come allenatore, quando sei stato a Torino, avevi Marchisio, Pogba, Vidal e Pirro, è figa, ok? Bisogna dire queste cose, lo so, però lui cercavi tutte le domeniche di farli giocare tutti e quattro e hai vinto 25 Scudetti, tra parentesi, non ha mai vinto la Coppa dei Campioni, anche lì. Comunque, ho lì un altro discorso, non mi interessa oggi toccarlo. Quindi Antonio, anche tu cerca di, eh, cerca di essere un po' più contento, perché se io ti ripeto, io sono il primo a pensarlo davvero, che questa squadra, con questa rosa qua, abbiamo fatto un giratore d'andata, incredibile, incredibile, questa squadra non è fatta per vincere lo Scudetto. E tu lo sai, è inutile che fai l'offeso, perché lo sapieni all'inizio dell'anno. Poi, non puoi prenderti con te, sei ridicolo quando te la prendi con l'arbitro, sei semplicemente ridicolo, tu eri quello che era a fianco a Luis Nazario da Lima, il 26 aprile del 1998, tu eri il capitano di quella Juventus, con un centrocampo fortissimo, tu eri titolare e capitano, sei andato e avevi a fianco Luis Nazario da Lima, perché il tuo boss ti mandava a te, ti ha mandato alla Rai, e l'altro, quello che ha fatto il fallo su Leonardo, te pensa il direttore, il Dio, il Dio sulla Terra, lo mandò a Pressing, che io mi ricordo tutto, ho una memoria che è spettacolare. Quindi, fai il bravo Antonio, pensa che tutto quello che vincerai quest'anno, tutto quello che vincerai a Milano sarà, è come se a Torino è dieci volte di più quello che vince a Milano, il valore, ti prego, cerca di capire questa cosa qua, perché sennò non vai avanti, sennò come diceva il vecchio Giovanni, Milano è una lavatrice, ti fa il lavaggio, ti brucia, ti brucia, comincia a girare, duri due mesi, salti, ok? Poi, un'altra cosa, Marotta, anche tu Marotta, cerca di, non so, di fare qualcosa di meglio, fra la società e la squadra, perché se, ripeto, se mi mandi via Nainggolan e mi prendi Barella, se mi mandi via quell'altro, Perisic, e mi prendi Lazzaro, sai, sono delle sostituzioni, ma non è un, non è un diventare grandi, dopo la gente, qualcuno, perché abbiamo vinto 5, 6, 7, 8, 10 partite, pensava che eravamo diventati grandi, ma anche Lazzaro, avete dimostrato che non è stato un grande acquisto, io non so se la colpa o la, chi ha deciso, fra Conte e lei, il signor Marotta, il signor Eusilio, non so, comunque, nel momento in cui, una persona arriva, dopo tre mesi, viene rimandato via, vuol dire che, c'è qualcosa che non va in questo ragazzo per il capionato italiano, questo, bisogna capirlo, però, bisogna anche capire che non è stato preso uno veramente forte, cioè, io non dico, ma, secondo me, o si prendono davvero due o tre giocatori forti, o se no, tutti gli anni, a gennaio saremo qua così, perché, perché è normale, perché è normale, perché questi ragazzi hanno fatto ottobre, novembre, e dicembre, a tirare come dei disgraziati, e adesso non ne hanno più, e non sono, perché, ripeto, c'è anche il discorso delle, io, un giocatore, va valutato nelle quattro cose, no, un po' di tattica, tecnica, personalità, e quindi, e, qui manca, manca la personalità, la personalità è, quando un centravanti, una punta, ha due palle sporche, e una la butta dentro, quella è perché, c'hai una grande personalità, che ti permette, di essere là, se no, sei un buon centravanti, quando invece, ti arrivano due occasioni, magari un passaggio, sbagliato, perché poi ci sarebbe, da aprire discorso, sui passaggi sbagliati, di questa squadra, perché, ne ho viste quasi tutte, le partite io, non ho visto un'azione corale, che possono, un'azione corale, che, vedi nel campo, che 5 o 6 persone, si passano la palla, di prima, cioè, abbiamo sempre fatto, anche questi due ragazzi, stanno facendo, un campionato straordinario, dopo, delle volte, sono talmente stanchi, che arrivano davanti alla porta, che sbagliano, perché, perché devono partire, in velocità, supersoniche, a 50, 60 metri, cominciano a partire, Martinez e, Lukaku, e quindi, abbiamo grossi problemi, perché, perché ripeto, oggi è stato il caso di Borca, Barella e Sensi, ma lo stesso, se giocano, Brozovic, Gagliardini e Vessino, non, non ci può essere, un'azione, dici, un'azione fatta, da piedi buoni, da cervello, da classe, da tecnica, ragazzi, e quindi, è normale, che dopo trovi un Cagliari, che ha un centrocampo, che è similare a noi, anzi, forse qualcosa più forte, e ci mette in difficoltà, tutta la partita, perché, alla fine, non siamo mai stati, nettamente superiori oggi, in nessuna parte del campo, io pensavo che, il centrocampo, ok, me lo vado a giocare, col Cagliari, a darmi pari, ma l'attacco e la difesa, li pensavo più forti, allora pensavo di vincere oggi, e invece, anche oggi, hanno, un po' di sfortuna indietro, perché il gol di loro, è un autogol, un po' di mancanza di lucidità, ma torniamo sempre, perché, c'è una mancanza di lucidità, perché, a questi due ragazzi davanti, difficilmente, gli arrivano i palloni, da dire, cazzo, questo è veramente, un grande passaggio, questo è veramente, un assist, oggi ha fatto un cross, questo qua, che è arrivato da due giorni e mezzo, ok, ma in cross, un cross così, lo può fare chiunque, ma voi ditemi, un grandissimo gol, su un'azione corale, dell'Inter, quest'anno, e dici, oh oh, comincio, comincio a avere qualche dubbio, no, a far fatica a cercarlo, quindi, poi, in settimana, due settimane fa, non lo volevo dire, ma adesso oggi lo dico, ho sentito il signor, Luciano Moggi, due settimane fa, dire che l'Inter, alla fine di febbraio, era a 15 punti di distacco della Juve, sentì anche, l'anno scorso, due anni fa, sempre questo personaggio, radiato dal mondo del calcio, ma, diventato Dio per i giornalisti, per i giornali, ancora una volta, soprattutto, quel deficiente di Vittorio Feltri, che dà la possibilità di scrivere, nel giornale, ok, ho sentito dire che, arriva Tudor a Udine, e l'udinese si salva, lo sapevano tutti, nel mondo del calcio, tutti quelli del settore, del mondo del calcio, sapevano, Tudor arriva alla Udine, l'udinese si salva, Tudor dove è andato a finire, ragazzi, ditemelo voi, perché non so, cosa sta facendo, dov'è, quindi, direi anche queste cose qua, io non sono contro, difficilmente sono contro, sempre una partita, io giudico una partita, ma ce l'ho sempre col sistema, direi stare attenti, perché se Moji dice queste cose, è perché sa qualcosa, ok, per il resto, direi, ho detto quasi tutto, l'unica cosa, ecco, io direi, di provare a cambiare un po' il modulo, e lunedì, da domani, iniziare una nuova, una nuova stagione, che ci possa permettere, quello che dicevo, verso la fine di agosto, di lottare, dal secondo al sesto posto, perché siamo lì, arrivano lì, arrivano tutte lì, dal secondo al sesto posto, cercare di far bene, per entrare in Champions League, abbiamo forse, un buon attacco, per fare anche una buona Coppa UEFA, e una buona Coppa Italia, tutto lì ragazzi, per il resto, buona settimana a tutti, e ci sentiamo domenica prossima, speriamo che inizia, una nuova, una nuova stagione, con l'arrivo del, uno dei, il terzo top player, che abbiamo in squadra, ciao ragazzi.